Hai ricevuto un debito da parte dell'Inps e allora devi sapere che in questi casi il debito può essere annullato. Attenzione però perché non possono essere annullati tutti i debiti, ma ad esempio possono essere annullati tutti quei debiti di natura assistenziale quando vi è stato un superamento dei limiti di reddito.